Sasa Albanese, coach della Di Vigo Libra Virtus, settimana scorsa è arrivata un'ennesima conferma questa volta in casa contro Scafati, quali sono le sensazioni dopo questo bel 3-0? È stata una partita importante perché è stata una partita dove noi cercamo delle conferme soprattutto contro una squadra che naviga nelle zone medio-alte della classifica e che ha messo in difficoltà anche le squadre che stanno facendo bene in questo campionato quindi è un test importante contro una squadra con individualità anche di categoria superiore la cosa che mi è piaciuta molto della squadra è stata sia la distribuzione dei punti che è un buon segnale per noi perché quando ci sono 4 giocatrici che riescono a raggiungere anche la cifra doppia vuol dire che chiunque riesce a dare il proprio contributo decisivo alla squadra e inoltre mi è piaciuta tantissimo l'interpretazione tattica di quanto abbiamo preparato in settimana mettendo in seria difficoltà la squadra avversaria ed ostacolando soprattutto il loro gioco al centro proprio perché hanno una coppia di centrali molto temibili che sono il loro punto di forza e siamo riusciti a fermarli abbastanza bene. Ecco quanto è stato importante appunto trovare organizzazione soprattutto la squadra grazie agli arrivi di Cesario e Giombetti Sì sicuramente sono stati arrivi importanti in particolare Giombetti serviva veramente come il pane perché nella prima parte di campionato abbiamo dovuto sempre un po' adattarci con il ruolo di libero che mancava ed è un ruolo determinante ormai nella palla a volo moderna come può essere la palleggiatrice insomma un ruolo che veramente non può essere preso sotto gamba e quindi in alcune partite in casa abbiamo avuto l'aiuto di Piatri Buzio che per fortuna ha potuto darci una mano ma comunque lei per certe sue personale ha deciso di appendere il ginocchio a chioto quindi ha potuto aiutarci per quanto possibile mentre poi fuori casa abbiamo dovuto sempre un po' adattarci ed è stato un peccato perché in tante partite magari con un roster al completo in questo ruolo potevamo raccogliere qualche punto in più in classifica diciamo adesso potremmo stare anche in una situazione ancora più tranquilla però ci dà appunto coraggio proprio la consapevolezza di aver finalmente ridato completezza al gruppo inoltre abbiamo anche migliorato sicuramente il reparto centrale con una centrale di grande esperienza e anche carisma come Paola quindi adesso sì il gruppo sta navigando bene in campo e in allenamento quindi dobbiamo proseguire insomma su questa strada Prossima sfida contro un'altra campana che avversario ti aspetti e soprattutto quali sarebbe quale sarà la chiave di volta per affrontare Scafa Ruvo? Allora Arzano sì è una squadra che praticamente soltanto noi siamo riusciti ad affrontarla al completo nel girone di andata perché poi nella partita contro di noi una del loro centrale si è fatta male e poi nella partita successiva già mancava anche l'altra centrale quindi dalla seconda giornata fino a due settimane fa erano anche loro in situazioni di emergenza infatti pure per loro forse la classifica è un po' bugiarda col mercato di gennaio sono riusciti ad aggiustare il reparto centrale e hanno preso anzi un centrale che è sceso dalla 2 che lo scorso anno ha vinto i playoff con Ravenna quindi un centrale che dà peso alla squadra e tant'è vero che adesso stanno ricominciando a macinare il gioco quindi sarà sicuramente una bella sfida e anche in questo caso sarà una sfida forse che la classifica può dire ben poco ai pronostici ma sicuramente sarà una bella battaglia e noi dobbiamo farci forza col fattore campo sicuramente anche con l'aiuto del pubblico grazie coach, grazie a voi, buonasera